Chiudiamo in bellezza con uno dei più importanti produttori di vini conosciuti in tutto il mondo Gianluca Berizzi che ci rilascia questa intervista. Ecco Gianluca Berizzi prendiamo a Nolo a prestito diciamo uno dei tuoi vini di punta utopia è un'utopia ripartire rilanciare e diciamo ritornare a quello che eravamo prima. Allora assolutamente sì in questo momento di ripartenza dobbiamo essere ottimisti e aiutare tanti operatori che danno lavoro poi a una catena di produttori come per esempio la ristorazione quindi dobbiamo assolutamente aiutare tutta questa catena che poi porterà anche noi a produrre qualità. Detto questo la novità che presenteremo alle guide è Ergosum. Ergosum è un dei diesi Verdicchio Riserva 2016 lo presenteremo nel corso e lo venderemo nel corso del 2021 quindi il prossimo anno che sarà sicuramente migliore di questo e quindi con tanto entusiasmo metteremo in campo questo grande vino molto importante sarà il vino definitivo dell'azienda Mirizzi. L'azienda è fresca diciamo ha preso da poco da pochissimo il conseguimento del riconoscimento dei vigneti di montagna da parte del Cervim. Chiaramente abbiamo una pendenza superiore media superiore al 30% quindi questi vini danno una caratteristica a questi territori danno una caratteristica incredibile dei biotipi di Verdicchio molto particolari caratteristiche eccezionali sul vino. E questo è il primo vigneto dell'Avide che sta a richiesti Mirizzi? Sì, l'iscrizione al Cervim è un'iscrizione molto diciamo pregiata e che dà la misura proprio del territorio. Siamo a Monte Roberto, siamo a una alto, una collina, un costone alto della collina dove ci sono questi quasi sei ettari di cui il 90% al Verdicchio è una parte circa mezzo ettaro a Bordeaux. Bordeaux è una varietà baccarossa, parliamo di Green Ash, Bordeaux è il biotipo marchigiano del Green Ash. Quindi per noi è un conseguimento molto importante questo riconoscimento perché questi declivi così importanti, così forti, unici, unici donano al territorio una bellezza incredibile. Ci spronano e danno delle caratteristiche proprio al vino di particolarità e quindi il vino è assolutamente unico. Ergo Sum è la punta di diamante bianca dell'azienda Mirizzi, quindi un vino, un Verdicchio invecchiato per ben cinque anni. Grazie a tutti.